A distanza di poche settimane veniamo a scoprire che 937 medici catanesi sono stati segnalati alla Corte dei Conti per abusiva prescrizione di farmaci, con il risultato che l'utenza che ha bisogno di questi farmaci per curarsi, adesso si vede negare dagli stessi medici preoccupati la prescrizione di farmaci di cui ha bisogno per la propria salute.